Come di consueto apro con un pensiero di sostegno al popolo ucraino che combatte, oltre che per la propria e anche per la nostra, la libertà contro l'aggressore genocida russo. Aggiungo anche la ferma condanna contro il terrorismo di Hamas, tanto quanto alcuni eccessi perpetrati dal governo israeliano non solo di recente, perché entrambe le attività, oltre che ostacolare il raggiungimento di una pace duratura, sacrificano ulteriormente la libertà del popolo palestinese. Per quanto riguarda le elezioni europee non si contano le analisi sulla stenzione, sulla scarsa affluenza, sulla fermazione dei partiti populisti e altre stemibili conseguenze. Non ultimo anche l'accidente del popolo del centro liberale che è rimasto orfano di rappresentanza politica. Premesso che del segno di poi sono piene le fosse, una rubrica che parla di libertà dovrebbe concentrarsi anche sul rovescio della medaglia, che è la faccia appunto della responsabilità. Chiamerei allora in causa i media che hanno fatto un pessimo lavoro perché non hanno contrastato, quando non hanno apertamente sostenuto, almeno in Italia, la propaganda populista e che hanno consentito a quegli elettori che avevano voglia di illudersi che si possa trattare con criminali genocidi e che questi possano essere degli interlocutori affidabili per trattative di pace, ma soprattutto hanno alimentato questa narrazione sbagliata per cui la pace possiamo darla per scontata e non è il risultato dei sacrifici di chi è venuto prima di noi che necessitano di essere difesi oggi più che mai. La stampa cattiva asseconda anche le spiegazioni di comodo per le quali è sempre colpa di qualcun altro e il benessere non è un obiettivo difficile da conseguire col sacrificio, ma un procedimento amministrativo che si può prescrivere per legge a spese di chi è stato più capace o anche solo più fortunato. Per essere cinici non è ancora successo niente di grave e probabilmente non succederà neanche se quando domani Donald Trump dovesse essere eletto Presidente degli Stati Uniti. Quello che si può fare dal basso del nostro ruolo di cittadini è continuare a seminare il dubbio e il buonsenso e a combattere contro la propaganda e la disinformazione.